ciao amici amiche io sono luce e benvenuti in questo prossimo video oggi non siamo in questi video dove vado a giocare ai videogiochi tipo minecraft oppure non lo so fifa ma oggi siamo in questo video proprio in video serio proprio per parlare di una cosa molto importante che a me riguarda e voi vi state chiedendo in questi stai chiedendo in queste ultime settimane dove sono i miei video infatti vi voglio rispondere a questa domanda anche se non me l'avete fatta ma vabbè devo stare vi voglio rispondere perché non stanno alla domanda ovviamente risponde questa domanda perché del motivo di perché stanno uscendo pochissimi video sul mio canale allora ragazzi adesso vi andrò a raccontare tutto per un po volevo fare questo video proprio per parlarne di questo con voi allora in questo periodo vi devo essere sincero non mi sto più vedendo voglia nel senso di non lo so di caricare un video per esempio montarlo quello un po il fatto ragazzi che non mi sta più me la voglia infatti non so più cosa farmi uscire perché sto vedendo anche che in questo periodo il canale sta più aumentando le iscrizioni ci stiamo fermando al 1050 e vedo anche che negli live c'è anche in generale premia nell'ultima premia che ho fatto sono arrivati a 5 spettatori e poi siamo rimasti un calo veramente incredibile e voglio parlare anche questo fatto che voglio scusarmi con voi del fatto che non mi sto occupando dei video e infatti se volete vedere io sto facendo moltissimi live sulla piattaforma io ho la su twitch che mi trovate tutti quasi in live dove mi trovate il martedì il martedì il sabato e la domenica su twitch dove andiamo a giocare a minecraft a chatting eccetera eccetera ma voglio sinceramente come state vedendo in questi ultimi anni stanno uscendo un video di minecraft insieme a email che stanno ottenendo risultati eccezionali cosa che non me l'aspettavo poi stanno uscendo anche il video della carriera andreziana che è un dosigino da mucca fc che sta un po' ferma in questo periodo e sono anche io che devo comparmi anche delle copertighe e del resto poi dove sono finiti i video della DC e della Marvel dove sono finiti i post partita allora voglio parlare anche di questo dei post partita dove sono finiti le post partite del Napoli non vi rascondo una cosa per ora che le post partita non mi sta venendo più la voglia nel senso nelle passanti del Napoli quindi fai un video poi fai montalo eccetera eccetera aspetta che si dedita e allora perché allora io registravo i post partita prima di tornare a scuola infatti lo registravo perso l'1-2 prima di mettermi a fare le cose mie io per fare i compiti ovviamente poi tutti i giorni uscivo a scuola poco stanco e dovevo proprio fare post partita e prima di mangiarlo lo registravo poi lo montavo e lo mettevo su YouTube e non lo so penso che per i post partita ne farò proprio quando avrò voglia in senso infatti ho saltato molte partite non ho fatto i post partita di Juve-Napoli non ho fatto i post partita di Napoli-Spezia proprio ci siamo formati quest'ultima opportunità ci siamo formati contro la Sampdoria perché sicuramente voglio portare cambiamenti nel senso dove sono finita anche la carriera indorziana la carriera indorziana per un po' è ferma perché proprio devo preparare anche gli altri episodi della carriera indorziana e ovviamente cosa succederà in questo canale voglio anche chiedervi un po' di aiuto nel senso di aiutarmi con i contenuti e portare nuovi contenuti su questo canale per farlo divertire e faccio per voi ragazzi voglio che mi consigliate qualche nuova novità proprio per cambiare il canale oltre ovviamente aiuto che portavo come i video Marvel DC che sicuramente torneranno a manita che spero proprio di farlo ritornare poi anche i... ma anche della carriera indorziana tornerà oltre a FIFA Minecraft Minecraft è sicuramente il contenuto principale e ovviamente per Minecraft non lo so non mi vengono che straccio l'idea ma penso che per Minecraft penso che porto un video con Imi penso degli stratti live proprio nella mia piattaforma viola e poi penso che su FIFA penso che farò dei cambiamenti penso che porterò qualcosa di notico nel senso non lo so delle rebuilding con le squadre pure delle challenge su FIFA questo è tutto da vedere spero proprio e poi poi non lo so ragazzi voglio portarvi nuove cose che ancora non in mente purtroppo allora voglio ripartire da ora c'è da non lo so dalla prossima settimana con nuovi video perché proprio si stanno proprio diminuendo i video e ci saranno sempre più live e allora io mi sto domandando se concentrarmi di più su essere proprio uno streamer oppure uno youtuber ma purtroppo ragazzi io non riesco neanche a fare il senso di idea perché non ho tempo anche di montarli per benino perché tra la scuola e tutto io non ci riesco ragazzi li devo dividere in due io non ce la farò cioè non ci riesco ma almeno ci proverò nel portare nuovi contenuti ragazzi io vi sto chiedendo aiuto consigliatemi di nuovi contenuti per il canale ovviamente per Minecraft ovviamente vi sto dicendo per FIFA e Minecraft torneranno con nuovi contenuti poi non lo so poi penso di portare GTA che ancora non ho ancora uno straccio di idea per GTA e allora poi penso che Marvel e DC continueranno e post partita non lo so per il momento ci metto un bel punto interrogativo perché post partita per il momento stanno fermi e non lo so se le voglio far ritornare sul canale io non lo so non lo so ancora e quindi questo è tutto ragazzi questo video vi volevo dire un po' come era la situazione quindi vi ho già detto prima aiutatemi nei commenti per nuovi contenuti quindi da posso usare tutto io me ne vado noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi bella bella